Stato d'emergenza, 4 milioni e 7 comuni delle Pesarese Fondi alle imprese per prevenire i danni da mal tempo Anche il mercato in aiuto agli alluvionati della Romagna Cali City si sposta in via Castelfidardo ospitando 24 cantine Vital Service domani alla Vitri Frigo Arena per il Lemezzo Salvezza Fondi alle Pesare Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 26 maggio Che apriamo parlando dell'allargamento dello stato di emergenza per i danni Da alluvione che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha allargato dall'Emilia Romagna A parte della provincia di Pesaro e Urbino 4 milioni attualmente stanziati da destinare a 7 comuni Ovvero Pesaro, Fano, Urbino, Gabicemare, Montelabatte, Monte Grimano Terme e Sasso Corvaro Un provvedimento che ha però già creato malumori Discriminatorio, dice Palmirocchielli, sindaco di Vallefoglia Escluso dalle piana di risarcimento nonostante le segnalazioni di esondazione frane Che hanno interessato il Comune Un provvedimento invece preoccupante Secondo il Presidente della provincia, Giuseppe Paolini Che ha giudicato la cifra insufficiente alla luce dei 25 milioni di danni rilevati Soltanto per quel che riguarda le strade franate E non solo risarcimenti per gli alluvioni Ma anche fondi per aiutare le imprese a prevenirli Va in questa direzione il bando presentato oggi dalla Camera di Commercio Non solo risarcimenti alle calamità alluvionali Ma anche stanziamenti a prevenirle La Camera di Commercio delle Marche oggi ha presentato a Pesaro Un bando inedito che va in questa direzione 600.000 euro stanziati in azioni mirate A incoraggiare e supportare le imprese In acquisti di beni strumentali come paratie Serramenti a tenuta stagna Sistemi di canalizzazione dell'acqua Motopompe e tanti altri accorgimenti Votati alla logica del prevenire Ancor prima che risarcire Con un bando ad occhio Dove andiamo a dare dei voucher Delle contribuzioni anche per chi vuole Assicurarsi per queste alluvioni Per chi vuole acquistare del materiale Per poter far sì che quando arrivano questi eventi Magari i propri laboratori, i propri negozi Le proprie attività Non l'acqua venga defluita fuori dai loro locali Sono dei piccoli interventi Ma molto importanti Che cambia il paradigma Non più dei sarcimento Dei danni Ma andiamo a prevenire Con delle attività Che gli imprenditori possono fare Beneficiari del bando I comuni alluvionati Dello scorso settembre Ma i recenti eventi Analoghi fra Nord delle Marche e Romagna Suggeriscono la possibilità Di un allargamento Sì abbiamo inserito Lo faremo nella giunta di lunedì Anche i territori inseriti nell'alluvione Purtroppo Che la Romagna ha avuto in queste ultime settimane È un bando che il sistema camerale Penso che sia la prima volta che lo mette in atto Ovvero andare non su delle linee di ristoro Per i danni che un'azienda ha avuto Ma prevenire prima con delle attività Nell'occasione odierna Sabatini ha anche annunciato L'appuntamento con la 32esima convention mondiale Delle Camere di Commercio italiane all'estero Che si terrà nelle Marche dal 16 al 20 giugno A Colli del Tronto Un appuntamento dedicato Alla internazionalizzazione d'impresa Alla presenza di 74 Camere di Commercio Da tutto il mondo Avremo 180-190 delegati Che saranno presenti E avremo il 16 Un convegno Che stiamo cercando Con la nostra Camera estera Unione Camere nazionale Il nostro presidente Acquarol di avere anche dei ministri Sotto delle tematiche importanti Come il Made in Italy nel mondo E gli stati generali dell'internazionalizzazione Con dei panel nel pomeriggio Importanti Dove parleremo Di agricoltura Made in Italy Infrastrutture Attrazione di investimenti E il 19 giugno Avremo Penso il più grande B2B Che mai si è fatto nelle Marche Fra imprese E Camere di Commercio E dopo i danni alle spiagge Da mal tempo Il Comune di Pesaro Ha previsto Un nuovo stanziamento Di 25.000 euro Provenienti Dalle Fondo di Riserva Delle Comune Che possono essere utilizzate Nell'immediatezza Della stagione estiva Alle porte Le operazioni di ripascimento Già programmate Da 149.000 Di cui 119.000 Della Regione Verranno dunque Integrate dallo stanziamento Predisposto In queste ore Soprattutto in relazione Alla recente esondazione Delle Genica E per tre martedì A cominciare Dalle prossimo Il 30 di maggio Il mercato cittadino Settimanale Delle San Decencio Diventerà un punto Di raccolta Di materiali utili Alle popolazioni Alluvionate Delle Miglia Romagna Pesaro Tende la mano Alla Romagna Per rialzarsi Dal fango Non si fermano Le iniziative Di solidarietà Per raccogliere Aiuti umanitari Destinati alle popolazioni Alluvionate Che stanno vivendo Giorni Di grande sofferenza Abbiamo In mente E lo facciamo Da martedì Il 30 Al Piazza San Decencio Dove c'è il mercato Una raccolta Straordinaria Per tutti Gli alluvionati Delle Miglia Romagna Noi ambulanti Siamo ben felici Di aiutare Questo popolo Che in questo momento È a terra Oltre agli ambulanti Che verranno Tutti A portarmi Delle cose Questo mio appello Riguarda soprattutto Anche la popolazione Di Pedro Quello che possiamo donare Sono prodotti E materiali Per la pulizia Genere alimentare E lunga conservazione Prodotti per l'igiene personale E tutti i beni Di prima necessità A noi ci serve tutto Dal mangiare A lunga conservazione In scatola Tonno Piselli Ceci Ci serve soprattutto Badili Scope Guanti Igiene intimo Shampi Lenzuola Mi hanno chiesto adesso Lenzuola Biancheria Questa è una grande iniziativa Degli mercati di Pesaro Spero che la gente Accolga Questo Appello E venga Da martedì 30 Per Tre mercati consecutivi Dalle 8 Alle 13 A portarmi Le cose Che possono Portare E prende forma Il nuovo piano Socio Sanitario Della regione Mar Che ha provato Ieri sera Dalla giunta Acquaroli Dopo la riorganizzazione Degli enti Con la creazione Di 5 aziende Sanitarie Territoriali Con questo piano La regione intende Raggiungere Gli obiettivi Prefissati Di abbattimento Delle liste D'attesa E potenziamento Dei servizi Sanitario Tanto in questo Tanto in questo tipo Di iniziativa Che per noi È una sorta Di orientamento In uscita Per i nostri Laureati Ci crediamo Appunto talmente Tanto che Quest'anno Abbiamo deciso Di raddoppiare Gli sforzi Quindi accanto Al tradizionale Appuntamento Ottunnale Di ottobre Che anche quest'anno Verrà Abbiamo questa Per la prima volta Questa edizione Primaverile A maggio Che ha riscosso Già Molto successo In questa sua Prima edizione C'è stata una Forte risposta Sia da parte Delle aziende Non credevamo Di avere Tante richieste Delle aziende stesse Stiamo di fatto Raddoppiando I numeri Rispetto Allo scorso anno Ma come possiamo Vedere oggi Forte è stata Anche la risposta Da parte Dei nostri Giovani E questo ci rende Molto contenti Perché significa Che c'è sensibilità Sia da parte Del territorio Da parte Delle aziende Che oramai Sono diventati Una Diciamo Un punto di riferimento Importante Per noi Perché questo Raccordo diretto Tra mondo Delle imprese E università È importante Per dare un segno Di continuità Ai nostri giovani Che si formano Studiano Tra i banchi Tra le aule Dell'Ateneo E poi però Una volta che hanno studiato E si sono formati Si devono In qualche modo Devono investire Nel mondo là fuori E devono capire Come farlo L'università L'università Non fa formazione Professionale Che è quello Che molte volte Ci rinfaccia Il mondo produttivo Perché se volessimo Pensare A un profilo Professionale Ogni impresa Avrebbe La sua esigenza Particolare Noi ovviamente Non possiamo Avere Mille corsi Di studio Quello che noi Forniamo Agli studenti Sono gli strumenti Per poter Adeguare Diciamo La loro capacità Di lettura Di quello che accade Nel mondo Nella società Nell'economia Alle condizioni Specifiche Dove vengono inseriti Quindi Questo che fa L'università Poi è chiaro Che In qualche modo Diciamo Facciamo Abbiamo dei laureati In economia Che sono più specializzati Rispetto a un laureato In filosofia Ma non è detto Che un'impresa Non trovi più Conveniente Assumere Un filosofo Piuttosto che Un economista Accade spesso E quindi Quindi È un Diciamo Un riscontro Di quello che ho detto Poco fa L'università Deve formare Delle persone Con gli strumenti Per poter fare Anche una formazione Continua E vi ricordiamo Che potrete Approfondire Ulteriormente Le career day Della primavera Dell'università Degli studi di Urbino In uno speciale televisivo Che Rossini TV Trasmetterà mercoledì 31 maggio Alle ore 20 e 10 Ma parliamo ancora Di formazione Alle lavoro Però quella Che riguarda Zardinieri d'arte Per reparchi storici Una novità Che l'assessore regionale Alle lavoro Stefano Guzzi Ha presentato oggi Nell'ambito Dell'agri show Di Villa Caprile La regione Marche È impegnata In tantissimi corsi Di formazione Perché sono Un viatico Fondamentale Per l'accrescimento Professionale Di tante persone E per agevolare L'ingresso Nel mondo Del lavoro Questo è un corso Diciamo così Molto particolare Perché è rivolto Appunto Già il titolo Dice Giardinieri d'arte Per giardini E parchi storici Noi abbiamo Sui nostri territori E qui a Villa Caprile Ne abbiamo Una testimonianza Diretta Tra le più belle O la più bella Se vogliamo Di questi territori Di questa regione E appunto Noi formiamo Con questi corsi Delle persone Professionalizzate Per poter Far sì Che queste ville storiche Giardini storici Parchi storici Siano Non solo Ben curati Come ovviamente Lo sono anche attualmente Ma diciamo così Ulteriormente valorizzati Per poter Diciamo Accogliere Nel miglior modo Possibile I visitatori Turisti E altri Ma al di là di questo Anche proprio dare Ancora un senso Più Culturale Storico Di quello che sono Questi giardini Quindi ecco Incentivare Assolutamente L'interesse Verso questi luoghi Che sono Un viatico Non solo di bellezza Arte e cultura Ma anche di potenziali Turismo E tanti visitatori Come del resto Vediamo anche oggi stesso Qui a Villa Caprile Quindi Sono usciti i bandi Un impegno Per formare 96 Operatori Nella regione Marche Un impegno Con fondi PNRR Di 600 E passa 1.000 euro È un impegno Che come regione Marche Stiamo portando avanti E parte a Pesaro Il progetto Della casa Delle tecnologie Emergenti Un nuovo laboratorio Tecnologico Calibrato su Pesaro Capitale della cultura Che è stato finanziato Con ben 11 milioni di euro Dalle ministero Dello sviluppo economico Lunedì 29 maggio Nella sala del Consiglio Comunale A partire dalle ore 11 Si terranno i tavoli di lavoro Cultura Turismo Engagement Fra istituzioni Associazioni di categoria Attività economiche E ordini professionali E domani Sabato 27 maggio A partire dalle ore 9 A Palazzo Montani Antaldi Si terrà il congresso Innovazione Tecnologica In radiologia E indicazioni All'atto diagnostico Un appuntamento Presieduto Dalle dottore Alberto Rebonato Direttore della struttura Complessa diagnostica Per immagini Dell'azienda sanitaria Territoriale Pesaro Urbino Il congresso Aggiornerà Sulle evoluzioni Diagnostiche Interventistiche Offerte Della nostra Azienda sanitaria E le immagini Che vi mostriamo Ora Arrivano Dalle viadotto Della contessa E documentano Lo stato di avanzamento Dei lavori Di questo Cruciale Snoto Di collegamento Fra Marche E Umbria Su 4 Delle 6 Campate Delle ponte Sono state Già completate Le operazioni Di smontaggio Delle travi Una volta ultimata La demolizione Delle vecchie Impalcato Potrà essere avviata La fase di costruzione Del nuovo viadotto In acciaio Un lavoro Di Anas Da 6 milioni Di euro Alle quali In parallelo E' stato affiancato Il ripristino Della galleria Adiacente Per un investimento Da 3,4 milioni Di euro E ora Parliamo un po' Di eventi Perché dalle primo Alle 4 di giugno L'elido di Fano E' pronto ad accogliere La 21esima edizione Delle Brodetto Fest Con grandi ospiti E più di 50 eventi Quattro giorni Per più di 50 appuntamenti Numeri di una 21esima edizione Di Brodetto Fest Che cambia format Presentandosi Al Lido di Fano Non più a settembre Ma dal 1 al 4 giugno Quattro giorni Di full immersion Nei sapori del mare In una rassegna Dal respiro Sempre più internazionale Presentata Prima a Barcellona Poi a Londra E ieri Il semaforo verde da Fano Presso il ristorante Casa Orazzi Dell'hotel Augustus Abbiamo creduto Nell'opera dei ristoratori Abbiamo creduto Nell'opera dei nostri marinai Di tutta la filiera Del pescato E oggi Siamo diventati Ancora più ambiziosi Visto il coinvolgimento Anche dei tante istituzioni Dal ministero Delle politiche agricole Fino a tutte le persone Tutti La politica Della regione Marche Ci siamo dati Quest'impronta Perché vogliamo Che Fano E la regione Marche Diventino Il polo internazionale Delle zuppe di pesce Questo vuol dire Confrontarsi Con tante altre regioni Parlare Un linguaggio diverso Per quanto riguarda L'enogastronomia Migliorarlo ancora Migliorare il festival Non solo Ma migliorare Proprio la visibilità Della nostra città E della nostra regione Tra le principali novità Abbiamo sicuramente Il ritorno Di una competizione Che è la competizione La gara nazionale Del brodetto E delle zuppe di pesce Verranno a Fano Ben 5 regioni italiane Il Veneto La Liguria La Toscana Il Lazio E la Puglia Verranno a cucinare Non a replicare Il brodetto fanese Ma verranno proprio A cucinare Il loro brodetto La loro zuppa di pesce Si sfideranno Nei giorni Della Kermesse Verranno giudicati Da una giuria D'eccezione E da lì Verrà fuori Il miglior brodetto La migliore zuppa di pesce Di questa 21esima edizione Del brodetto fest Un'altra novità importante È un spazio dedicato Al vino Ci sarà il brodetto And Wine Un'area dedicata Dove varie case vinicole Potranno far degustare I loro vini In abbinamento Col cibo E quindi Tutti gli avventori Del brodetto fest Potranno non solo Mangiare il brodetto Ma potranno anche Degustare degli ottimi vini In abbinamento Con del buon cibo Un'ultima novità Ma più che una novità È una riconferma È lo spazio bro Un spazio dedicato Alla cucina dei pescatori Il brodetto Che verrà cucinato In loco Nei pentoloni tradizionali Quindi Tutti avranno la possibilità Di vedere Come verrà cucinato Il brodetto Ma più che altro Avranno la possibilità Poi Di degustarlo Nello spazio Deor Allestito Davanti alla cucina È annunciata Per il 4 giugno La presenza al festival Anche del ministro All'agricoltura Lollobrigida Una presenza istituzionale Al culmine Di una carrellata Di ospiti Fra cucina E cultura Che saranno inaugurati Dal divulgatore scientifico Televisivo Roberto Giacobbo Presente Al Lido Il primo giugno Io sono molto contento Di questo Perché Roberto Giacobbo È uno dei personaggi Televisivi Che adoro di più Sarà anche Naturalmente Il personaggio Che aprirà Ufficialmente La carrellata Di grandi personaggi Grandi chef Che in questi 4 giorni Si susseguiranno Al Lido di Fano In occasione Della 21esima Edizione del festival Abbiamo voluto Così anticipare A giugno Questo bellissimo appuntamento Sia perché C'è la necessità Da parte della città Di destagionalizzare In questo giorno Parlando anche Con gli operatori Insomma già Giugno Un mese molto pieno Quindi la città Ha bisogno Di anticipare La stagione E farlo Parlando di gastronomia Parlando della buona Gastronomia Nella nostra città Tra l'altro Un progetto Che rientra pieno Nel progetto Fano gastronomica Che stiamo portando avanti Insomma È veramente Molto importante E di grande promozione Per noi E poi In un periodo Dove Insomma I nostri pescatori Escono Pescano E quindi possiamo Trovare il pesce Nelle nostre tavole Quello che arriva Direttamente Dall'Adriatico E quindi non ci sarà Il fermo pesca Come di solito Accadeva a settembre È un brodetto fest Che accende Anche l'attenzione Sul comparto Della pesca Come rimarcato Dall'onorevole Mirco Carloni E dall'amministrazione Regionale Focalizzare Focalizzare L'attenzione Verso Il comparto pesca Perché effettivamente Il piatto Il brodetto Nasce dal pescato Che deve essere Qui Del nostro mare Adriatico Ed è un comparto Che ha Delle difficoltà E che noi Vogliamo anche Attraverso queste iniziative Valorizzarlo E potenziarlo A breve Avremo la nuova Programmazione Dei fondi europei Sulla pesca Fiampa E li utilizzeremo Per sostenere La pesca marittima E per portare Di nuovo Il pesce Nelle menze Dei marchigiani Da Fano A Pesaro E dalle pesce Alle vino Perché il 3 giugno Arriva la terza Edizione di Cali City In una nuova location Il 3 giugno Torna all'appuntamento Con Cali City L'estate In un sorso 24 cantine Della provincia Animeranno Il centro storico Di Pesaro Nell'evento Dedicato al buon vino Del territorio Che per la sua terza edizione Cambia location Da Via Passeri Ci si sposta infatti Fra Via Castelfidardo Via Mazza E Via Mazzolari Quest'anno sarà In Via Castelfidardo Anche perché Come gli anni passati È stata per due anni In Via Passeri Che come attività commerciali Hanno lavorato Per vincere anche Il bando Il centro commerciale naturale La stessa cosa è avvenuta In Via Castelfidardo Dove hanno vinto Il bando regionale Quindi il centro commerciale naturale Portasale Si chiamerà E quindi ci sarà anche Un'iniziativa All'interno di Cali City Proprio anche per le volte Successive Che le persone si recano In Via Castelfidardo Quindi avranno Una scontistica Quest'anno abbiamo cambiato Anche i partner del progetto Comunque c'è sempre Confcommercio Confartigianato CNA A Pautel Probabilmente sarà La migliore edizione Delle ultime tre Quindi coinvolgeremo Via Castelfidardo In centro Pesaro 24 cantine L'ingresso è libero Le consumazioni sono a pagamento E quindi daremo Un ticket composto Da quattro tagliandi Sono quattro degustazioni A 15 euro Non solo degustazioni Nelle sei ore dell'evento Dalle 18 a mezzanotte Il tema del vino Si declinerà Fra presentazioni di libri Dibattiti Arte Poesia E attività ludiche È un programma molto ricco Non solo per chi viene A degustare il vino Quindi potrei anche Non bere Ma troverei tanti eventi Nell'evento Quindi una grandissima Opportunità Di divertimento E anche di speranza In un momento anche Per ricordare I nostri amici Delle mia Romagna È un modo per Sviluppare le attività economiche Per dare alla gente Un po' di ristoro E concludiamo Parlando di sport Perché domani Alle ore 17 Ultimo atto Della stagione Dell'Ital Service Pesaro Calcio 5 Che eccezionalmente Giocherà Alla vitrifrigo Arena di Pesaro Vista la concomitante Indisponibilità Delle palafiera Prezzi popolari Per chiamare a raccolti Le pubblico pesaresi In una partita Che vale la permanenza In Serie A Per la società Delle presidente Lorenzo Pizza All'andata Nella prima gara Con Davide Barniesi Promosso a prima guida Tecnica Dopo l'esonoro Dell'allenatore Fulvio Colini L'Ital Service Ha battuto il Monas Tire 4 a 3 In Sardegna Con una vittoria Comunque salva In caso di sconfitta Con un gol di scarto Si andrà invece Ai supplementari Domenica Alle ore 15.30 Alle camposcuola Di Via Respighi Si conclude invece La regular season Dei Ranocchi Angels Di food L'americano Che ospitano La Leggio 13 Roma Un match Di ingresso Gratuito Importante Per chiudere il giro Nel primo posto E ritagliarsi Il miglior piazzamento In vista dei playoff E con lo sport Termina qua Questa nostra edizione Di Rossini News Però Prima di lasciarvi Le previsioni Delle meteo Vi raccordo La programmazione Su Rossini TV Questa sera L'appuntamento Con Biolab Questo programma Siamo la terza Di cinque puntate E in questa terza puntata Parleremo Di un tema Che riguarda Comunque un po' tutti Ovvero Quello dell'invecchiamento Appuntamento A domani mattina Come di consueto In diretta Con la rassegna stampa Delle sabato In diretta Alle ore 7.20 Saremo in diretta Anche su Facebook E poi le repliche Che vedete In grafico 8.20 12.30 14.18 Domani mattina Ci sarà a condurre Il nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto Con questa nostra edizione Di Rossini News Vi auguro Un buon fine settimana E vi lascio Alle previsioni Del meteo Del meteo E vi lascio E vi lascio E vi lascio